I'll take the wheel Minefield alert, minefield alert All personnel to combat station Oioioioioi Bella ragazzi sono venuto a rinforzare in questo nuissimo Episodio di Time Shift Poi mentre riprendiamo dove ci siamo lasciati Porca Guardate qua sono nel panico Eh ci sono i bombardieri qua Cazzo Oddio Porca Eh devo sparare a queste adesso Eh ti piacerebbe? Error frame integrity 50% Attention Error frame integrity 30% Eh il 30% eh Error frame integrity 30% Sì 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 O che sticca oggi? Grazie a tutti. Tutti in fiamme però, cioè non voglio dire. Non li vedo. Dove è che sta una bombardata? Peccatroia. Eh, adesso esplodi però. Non arrivano i colpi. Oli. Olè Ah Però nonostante abbiamo Completato l'obiettivo Siamo morti E partiamo da qua Insomma non è una bella situazione Qua dove abbiamo salvato Roia Ci sono sti cosi anche Ecco perché Siamo in for Delta Battalion Their Zeph Was shot down Months ago Before we had Your intel We thought Crone Already had them Executed But they're in prison So you're the only one Who can get in close You, Nichols, and Ross Will take the dropjet Down to the Minus, what's your man Just give me a call Quick when you win Keep our channel clear Get moving, gentlemen I want to lead them away From this airspace Good luck What the hell's gotten into Crone He just reversed our improvements On beta He said we're getting ahead of ourselves Once to pull Sam Even the auto return system He actually wants us to revert back to the Alpha suit manual return Va bene Contento lui Ok Occhio Aia No, no, no Così però no Non va bene No, no No, così non va bene Cerchiamo di restare in copertura magari, eh Ecco Se invece sto di qua, scusa La granata Te la puoi anche Eh Cazzo Beh, vabbè Cos'è Cioè, scusa Eh Cazzo Sì, ma cos'è Ma c'è Fanculo Cacca puttana No, no, no No, no, stare qui No, stare qui Ci sei, ci sei Eh, devi essere lì Eccolo Aspetta che devo summare meglio Uno E due Bam Che troia Oh Vabbè Queste sono morti Cosa vuoi che faccia Potevo utilizzare la torretta Posso guidare Posso guidare Sti cosi Ah, molto alla Ok, si gui Porca No, allora Si guidano malissimo Non posso muovere la La visuale Eh, vacca puttana Occhio Per attivare il turbo Perché c'è anche il turbo Sì, infatti Sì, infatti Sì, c'è il turbo Sì, infatti Sei che faccio Io scendo E prendo questo Perché l'ho Intravisto Che almeno Si è danneggiato Ah, ecco Perché si muove Vedi Ecco perché Ti ho preso No Non l'ho preso Sì, sì Forse sì Però Guarda questo Lo che Che mi lanciava Pirazzi Beh, io Seguo la strada Vediamo Dove Dove Porta Occhio Dove Dove siamo Allo stadio Senti Porto 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 No 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 Cazzo Eccolo La Uuuh Cazzo Ah, bloccato? Se passo di qua Eh, albero Dov'è che devo andare? Che troia sto cazzo Di qua? Cioè, ma così? Aspetta, dove mi ha fatto? Aspetta, cosa ho capito? Eh, da qua Mamma Ma chi è? La palestra? Che figata Al posto della cosa da cecchino, però No, cecchino E che ca... Eh La palestra è niente male, proviamola Dov'è il quad qua adesso? Non so Seguo questi Poi vediamo Direttora Che è sta cosa? Cos'è questa cosa? Beh Ma comunque è là Fammi dare un'occhiata Ok, lì ci sono I quad I soliti quad Però Non mi sembra di vedere nessuno Adesso so Adesso so già che Che verranno i 20.000 Io qui non li vedo O li abbiamo già Ammazzati Ma ne dubito Eccoli Cazzo Hanno anche loro la balestra Allora Allora Ne ho visti tre Allora Allora Lì c'è uno con la mitagliettrice No È solo Uno Due Porco Uno Due E corri Sì Pure Stiamo scherzando Ma poi Non ho neanche Munizioni Presticosi Eccoli Che arrivano Tac Poi Va No no Ho la tuta scarica Ho la tuta scarica Bang Cazzo Beh si porè la granata ciao faccio delle mosche sti cosi che roia se non stai fermo là porca roia che faticaccia però visto che la musica è continua mi sa che ce ne sono altri non vorrei dire ma no non mi sembra dice che dobbiamo entrare qua dentro dov'è la porta? ah ecco munizioni ma sono già carico c'è la pompa ha un esplosivo olè siamo pronti no eh cosi si cos'è ti fai male da 50 cm ma siamo seri? scusa ne hai neanche il tempo ma neanche il tempo di riprendere il quad porca troia mi sono fatto male vabbè già che ci stiamo prendo un altro quad visto che ne abbiamo qua dai corri dai corri che cos'è la lentezza oppala che storoso tirare la leva ah proprio vabbè vabbè qui a 走 Uff, la puttana Ne arrivano altri Che puttana Oh, i mortali sono Ok, munizioni ma le ho tutte al massimo Che cazzo Che è? Ho fatto la trottola Sto scherzando Orco Calmi Guarda io che cosa ti faccio Da dietro le frasche Tac Ah, quelli che stanno scavalcando Orco Una è la Ok, adesso ci avviciniamo Comunque Sta cacchio di mettere la triccia Prima o poi Me la mangio No, grazie Uno là in fondo Eh, eh, eh Ma enemy spotted Che? Tac 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 Perchè non esplodi Perchè non esplodi? Carca puttana Poi Uno lì Uno lì Cazzo Deo La Orlo quello Dove Dove è lanciato la granata Orto Non posso scavalcare Vabbè 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 Si è Già capito Oppala Così che si fa Eeeh Così Qua ci sono le zone chiuse Quindi non possiamo entrare Eeeh Eeeh E' per il cancello Vero? Incoming threat Detected No Non ho capito Non ho capito No 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 Sul serio Non ho capito Che cosa Vabbè Siamo Siamo già qua Dai Forse Quello il cancello Potrebbe Arsi Infatti Infatti E qua Bisogna scendere Hoppala Eh Non siamo Mica qua Per Per pettinare Le bambole Aspetta che qua Si può entrare Fammi vedere Eh di solito Qua ci sono delle Munizioni O Cose simili Insomma Proviamo qua Ah Ancora Ancora il coso Da cecchino Si ma Quello è il fucile a pompa Perché comunque Devi stare A distanza Ravvicinata Vabbè Questo Questo Mi sa che è chiuso Si Allora Andiamo verso di là Localizza Il logo In cui Si è schiantato Vabbè Lo Zeppelin Ole L'evento 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 Detectato dobbiamo fare in fretta molto in fretta abbiamo fatto ok nella zona in cui si è schiantato vabbè lo zeppelin vabbè allora allora se nessun altro mi vuole interrompere direi che per questo episodio di timeshift può concludersi qua nel prossimo episodio ci dirigiamo verso la zona dello schianto della zeppelina quindi vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e altri giochi metterò un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio ma come dire anche la vostra nei commenti noi ci sentiamo con un prossimo episodio di timeshift bella